Una partita su due binari 5 Stelle respingono tutti gli emendamenti dei dissidenti sul decreto sicurezza e migrazione e sarebbero pronti a votare la fiducia al Senato con molte probabilità nel pomeriggio. Ma dall'altra parte chiedono alla Lega di venire incontro alle richieste pentastellate sul disegno di legge anticorruzione e soprattutto sul controverso articolo che prevede di bloccare la prescrizione al primo grado di giudizio. Il Carroccio al momento tiene il punto e chiede lo stralcio dell'emendamento peraltro già modificato ieri sera almeno nel titolo ma non nel contenuto. Troppo poco dunque si attende il vertice di questa sera tra Di Maio e Salvini con la mediazione del Presidente del Consiglio Conte. In attesa invece dell'inizio dell'iter parlamentare della manovra il Ministro dell'Economia Tria prova a convincere i partner dell'Eurogruppo. I dati e la strategia è un peso atto e il colloquio e il dialogo costruttivo sarà con la Commissione che è il nostro interlocutore in questa fase e risponderemo entro i termini prestabiliti alla Commissione. Quindi non c'è né scontro né compromesso che andiamo a avere. Per il commissario economico Moscovici tuttavia che attende per il 13 novembre una risposta forte e decisa del governo italiano se non si dovesse raggiungere un accordo si aprirebbe la strada delle sanzioni.